In questo episodio di investimenti impossibili esamineremo il Norfondo Obbligazioni Paesi Emergenti, un fondo obbligazionario venduto da Banca Sella che non è purtroppo all'altezza delle sue premesse. Dal prospetto si legge che il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei paesi emergenti, denominate in dollari americani e di euro, ed è indicato per gli investitori che perseguono l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale nel tempo. Vista così le premesse sono buone, non solo, ma a novembre 2015 sono anche ottimi risultati, perché dalla scheda qua sotto puoi vedere immediatamente come i rendimenti siano molto alti. Da inizio anno il fondo ha reso l'8,04%, tantissimo. La media annualizzata degli ultimi tre anni è stata del 5,89% annuo composto, quindi risultati decisamente interessanti che ad una prima analisi potrebbero indurti a pensare che il fondo va bene per te, sempre che funzioni all'interno di una strategia di portafoglio. Ma la prima cosa che io vado a verificare sono i costi, e i costi non sono così bassi. Sempre sul prospetto si legge che la commissione d'ingresso è massimo 2%, come vedi qui, ed è a discrezione del collocatore, quindi questo è un modo elegante per dire che Banca Sella può annullare questa commissione. Quello che non può annullare è la commissione di gestione dell'1,525% annua e le commissioni di incentivo, il 20% dell'extra performance maturata nel corso dell'anno solare, che si traduce in un tasso di spese correnti dell'1,66%. Ma andiamo a vedere che cosa sarebbe successo se anziché comprare il fondo di Banca Sella tu avessi investito nel benchmark del fondo, che è l'indice NBI dei paesi emergenti in dollari. Il grafico che ti sottopongo mette a confronto appunto il norfondo obbligazioni paesi emergenti classe A, quindi classe ad accumulazione dei proventi, con l'ETF che replica l'andamento dell'indice benchmark del fondo. Manco a farlo opposta, l'andamento del fondo è rappresentato dalla linea rossa che sta sotto, mentre l'ETF sta sopra. Come per l'altra volta, qua abbiamo dei dati su base annua, rendimento a un anno, poi abbiamo il rendimento per anno solare, 2011-2012 e così via, e qua sotto invece il rendimento alla data del 19 di novembre. Tre mesi, sei mesi, un anno e così via. Come puoi notare, l'unico caso in cui il fondo di Banca Sella è stato difensivo è stato il 2013, durante il quale ha perso solo il 5% contro l'11% dell'ETF. Anche nell'ultimo anno è stato meno volatile rispetto all'ETF, perché il massimo drawdown, il max di D, è stato di meno 8% contro meno 13, quindi sicuramente il fondo di Banca Sella ha avuto il vantaggio di non essere così volatile. Tieni però presente questo, che se tu avessi sottoscritto il fondo un anno fa avresti pagato il 2% di ingresso, quindi al drawdown dell'otto avresti aggiunto ancora un 2% di commissione, quindi avresti avuto un meno 10 e 46 contro un meno 13, che riduce già notevolmente la differenza. Ma nessuno di noi investe in un fondo per lasciare i soldi per pochi mesi. Tutti investiamo con un orizzonte di qualche anno, non di lunghissimo periodo, ma sicuramente di qualche anno. E come puoi vedere, e questi sono numeri, i numeri sono oggettivi, la convenienza dell'ETF è stata schiacciante, quindi se tu hai avuto la sfortuna, in Piemonte diciamo la sfiga, di aver investito nel 2013, quell'anno lì sei rimasto penalizzato. Ma nel 2014 e nel 2015 i risultati sono stati pazzeschi dell'ETF rispetto al fondo, ben inteso. Quindi quell'8% che ha reso il fondo, quell'8,04, è nulla rispetto al 16% che ha fatto l'ETF. Ok? Tenendo conto che l'ETF paga delle cedole, che qua non vengono considerate perché il rendimento è calcolato solo sulla base del prezzo. Cos'altro dire? Che non finisce qua. Permettimi di mostrarti un'altra cosa veramente interessante, ma prima tieni a mente qual è l'ETF che abbiamo individuato. Andando ad analizzare che cosa c'è nel portafoglio del fondo al 31 ottobre 2015, trovo una sgradevole sorpresa. Il fondo è investito per il 9,01% nell'ETF che non riesce a battere. Quindi paradossalmente, per una piccola parte, per fortuna, però tu paghi l'1,525% di commissione annua più quella di performance, per investire in un fondo che che cosa fa? Compra l'ETF sottostante per il 9% e con il restante 91% dei suoi investimenti non riesce a battere il benchmark. Io non so te, però credo di poter inserire tra gli investimenti impossibili anche il nostro Nordfondo. Ti aspetto al prossimo episodio di investimenti impossibili e ti auguro buone riflessioni e buon divertimento in questo caso. Ciao da Giacomo e alla prossima!